Troverai le porte sempre aperte a Roma con il cuore e con la volontà di darti una mano, noi siamo convinti che qui c'è la forza di un cambiamento necessario. È Ettore Rosati a parlare al termine di un'assemblea politica dove passione e unità trovano il consenso del pubblico del cinema modernissimo. Ettore Rosato, capogruppo del PD alla Camera, è convinto che Carlo Guccione potrà vincere le elezioni a Cosenza perché è un uomo che rappresenta la vera sfida con la sua capacità di coinvolgere le intelligenze e le forze democratiche di Cosenza. Ha scelto Carlo Guccione per la sua preparazione, per la sua competenza, per la sua voglia e il suo amore anche per questa città. È una sfida al cambiamento vera che guarda questa città con le grandi potenzialità che ha, un luogo in cui la Calabria può trovare un vero riscatto. L'incontro ha visto sullo stesso palco Mimmo Bevacqua nella veste di moderatore, il segretario regionale del PD Ernesto Magorno, la parlamentare Stefania Covello della Segreteria Nazionale del PD ed il segretario provinciale del PD Luigi Guglielmelli per un'iniziativa a sostegno del candidato al sindaco Carlo Guccione e del centro-sinistra unito per la guida della città di Cosenza. Fiorenza Gonzales per la CNews24.